La famiglia Lujan, una delle più rispettate e conosciute del paese, attraversa un periodo oscuro e turbolento. La serenità e l'unità familiare sono state interrotte bruscamente da un evento tragico che nessuno avrebbe potuto prevedere. Fernando, colonna portante della famiglia e padre affettuoso di Martina, ha perso la vita in circostanze del tutto inaspettate. Questo drammatico evento ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti i membri della famiglia, generando onde d'urto di dolore e incredulità. Ma, tra tutti, è Martina a sentire in modo più profondo la perdita del padre. La scoperta del corpo senza vita di Fernando è stata una visione straziante per lei, un'immagine che rimarrà impressa nella sua mente per sempre. Il suo cuore si è spezzato e il dolore l'ha sopraffatta, portandola a cercare una via d'uscita per la sua rabbia e il suo senso di impotenza. Curro, forse una delle persone più vicine a Martina in quel momento, si è ritrovato ad essere il bersaglio delle sue emozioni. Ma il dolore per la perdita di Fernando non è l'unico problema che la famiglia Lujan deve affrontare. Vecchie tensioni tra la Marchesa, matriarca della famiglia, e alcuni dei suoi cognati tornano a galla, specialmente quando si parla della proposta di matrimonio di Martina. Il contesto emotivo rende ogni discussione più complicata e carica di significato. Mentre la famiglia è ancora immersa nel dolore, prende la difficile decisione di rimandare la richiesta di mano di Martina, sentendo che non è il momento adatto per festeggiamenti o impegni formali. Questa scelta, sebbene comprensibile, non viene accolta bene da tutti. Margarita, sempre molto protettiva nei confronti di sua nipote, insiste affinché Martina parli con don Antonio de Carvajal e Cifuentes, sperando che una conversazione possa chiarire l'aria e risolvere il malinteso. Ma la tragedia porta con sé altri misteri. La scoperta che delle pillole, che avrebbero potuto salvare Fernando, non si trovavano al loro posto, solleva ulteriori domande e sospetti. Margarita, mai una donna da prendere le cose alla leggera, inizia a fare domande scomode e indagare sulle circostanze della morte di Fernando. L'ombra del dubbio si estende sulla Marchesa, portando con sé nuovi interrogativi. Avrà avuto un ruolo nella scomparsa delle pillole? E quale potrebbe essere il movente dietro un atto così sinistro? Solo il tempo rivelerà la verità. All'interno della dimora, dove servitori e nobili vivono vite parallele ma interconnesse, l'aria è tesa. La servitù che normalmente opera in perfetta armonia, seguendo un ritmo ben oleato fatto di abitudini e rispetto reciproco, si trova ora in una situazione di crescente tensione. Il motivo? Feliciano. Quest'uomo, che fino a poco tempo prima era considerato una figura tranquilla e affidabile, ora si trova al centro di sospetti e mormorii. Il malcontento nei suoi confronti non nasce da un giorno all'altro, ma si è accumulato nel tempo, alimentato da piccoli episodi e incomprensioni. Con il passare dei giorni, l'ostilità verso di lui diventa sempre più palpabile, tanto da poterla quasi toccare. Il culmine di questo crescente disappunto arriva in un momento particolarmente teso, in cui le parole rischiano di tramutarsi in azioni ben più gravi. In questo clima di crescente tensione, in cui ogni sguardo e ogni parola sembrano carichi di sospetto, interviene Romulo. Con la sua saggezza e la sua capacità di mediatore, riesce a riportare la calma, impedendo che la situazione degeneri. Ma proprio quando sembra che le acque si siano calmate, un colpo di scena sconvolge tutti. Feliciano, in un momento di estrema fragilità, decide di confessare un segreto che porta con sé da tempo. È stato lui a portare il figlio di Pia al convento. Una rivelazione che lascia tutti senza parole, mettendo ulteriormente in discussione la sua posizione all'interno della servitù. Pia, naturalmente, è la più colpita da questa rivelazione. La sua angoscia e il suo desiderio di giustizia per ciò che è stato fatto a suo figlio diventano quasi palpabili. Il suo cuore materno urla vendetta e comprensione. Feliciano, cercando di redimersi, tenta di giustificare il suo gesto a Teresa. Ma le parole sembrano vuote agli occhi della giovane, che si sente profondamente tradita. Questa sensazione di tradimento e delusione la spinge ad allontanarsi da Feliciano, mettendo una distanza insormontabile tra di loro. Questo spazio lasciato da Feliciano nella vita di Teresa diventa l'opportunità perfetta per Mauro. Questo rinnovato interesse porta a una riaccensione della loro relazione, che sembrava destinata a rimanere un lontano ricordo del passato. In una casa antica e ricca di storia, dove ogni oggetto racconta una storia, un particolare ritratto attira l'attenzione di Abel. Mentre passeggiava per uno degli eleganti corridoi, i suoi occhi furono catturati da un ritratto, appeso in modo discreto ma impossibile da ignorare. raffigurava una donna dallo sguardo intenso e penetrante, Hana. Ma ciò che sorprende Abel non è tanto il soggetto del quadro quanto la firma dell'artista, Manuel. Manuel, un vecchio amico di Abel, non aveva mai menzionato di aver dipinto Hana, e tantomeno con una tale intensità e passione. Gli occhi di Hana nel ritratto sembravano riflettere un'affinità particolare con l'artista, una connessione che andava oltre la semplice rappresentazione di un soggetto su tela. Questa scoperta suscita in Abel un insieme di emozioni, sorpresa, confusione e, inevitabilmente, gelosia. Inizia così una serie di riflessioni e domande nella mente di Abel. Da quanto tempo Manuel conosceva Hana? Qual era la natura del loro rapporto? La profondità e l'intimità del ritratto suggeriscono un legame molto più profondo di una semplice amicizia. Questo pensiero tormenta Abel, che si ritrova a scrutare ogni dettaglio del dipinto, come se cercasse delle risposte nascoste tra le pennellate. Deciso a scoprire la verità, Abel inizia a indagare sul passato di Manuel. Parla con amici comuni cerca vecchie lettere o qualsiasi altro indizio che possa rivelare la natura del rapporto tra Manuel e Hana. Ma ogni ricerca sembra portare a più domande che risposte. La fiducia di Abel in Hana comincia a vacillare. Si chiede se ci siano stati momenti nascosti, segreti condivisi tra Hana e Manuel, che lui non conosceva. La loro relazione, una volta solida come una roccia, ora sembra minacciata da ombre di dubbi e insicurezze. Hana, sentendo il cambiamento nell'atteggiamento di Abel, si trova a confrontarsi con le sue proprie emozioni e con la necessità di chiarire le cose. La situazione diventa un crocevia per tutti e tre, dove le decisioni prese avranno ripercussioni durature sul loro futuro e sulle relazioni che hanno costruito. Candela, dal canto suo, è in un bivio da quando il maestro le ha chiesto di sposarsi. I suoi colleghi le consigliano di seguire il suo cuore, ma lei ancora non si decide. Maria e Salvador sono due personaggi centrali nella trama di La Promessa. La loro assenza dalla narrazione, dovuta all'operazione di Salvador a Cordova, ha lasciato un vuoto tangibile. Gli altri personaggi e i fedeli telespettatori hanno sentito la loro mancanza e le loro vicissitudini sono state argomento di discussioni e supposizioni. L'operazione a Cordova non era un evento qualsiasi. Rappresentava una speranza, un'opportunità per Salvador di ritrovare un pezzo di sé che aveva perso, la sua vista. La notizia dell'intervento aveva scosso l'intera comunità di La Promessa. Molti avevano inviato preghiere, messaggi di sostegno e auguri di pronta guarigione, sperando che tutto andasse per il meglio. Durante la loro assenza, l'atmosfera a La Promessa era carica di aspettativa. Ogni giorno, amici e conoscenti, si chiedevano come fosse andata, se Salvador avrebbe riguadagnato la capacità di vedere il mondo attorno a lui. Maria, al suo fianco, era stata una roccia, supportandolo in ogni momento, mostrando una forza e una determinazione ammirevoli. Quando la notizia del loro ritorno si diffonde, un'ondata di entusiasmo avvolge tutti. La tensione cresce fino al momento in cui Salvador toglie le bende dagli occhi e, in un momento di pura emozione, conferma che ha recuperato la vista. È un momento di gioia pura, di sollievo, di trionfo contro le avversità. Gli abbracci e i sorrisi si moltiplicano e la comunità si riunisce per celebrare questo piccolo miracolo. Nel frattempo, un altro personaggio, Candela, decide di prendersi una pausa dalle dinamiche di La Promessa. La notizia che il maestro, una figura di riferimento per lei, annuncia un viaggio a Siviglia la colpisce. Questo viaggio, più che una semplice assenza, rappresenta per Candela un momento di riflessione, una possibilità di staccare dalla routine e valutare ciò che realmente conta nella sua vita. Mentre La Promessa continua a vivere alti e bassi, Candela si ritira in un momento di introspezione, anticipando nuovi sviluppi nella sua trama personale. Conclusione. Come sempre, La Promessa promette una settimana piena di emozioni, misteri e colpi di scena inaspettati. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perderti le prossime anticipazioni de La Promessa. Quanto vorresti far fuori Cruz da 1 a 10? Scrivilo nei commenti.